Sono bravo. O maresciallo, maresciallo. Sshhh. Sono bravo attuale. Io ho preso di ritenzarla di farlo. Il caraviglietto è bellissimo. E cosa è l'albumo di... Bene, vedi, alici. E' l'albumo di alici. Non è come... Vabbè, amici. È il buon da vici. Giacciare il mano, amici. E' l'albumo. Zitto, l'anzino. Dai, zitto. Che come cazzo? A mio padre. A l'anzino. Mi sono sblocato di più. L'allelatore... Viena a me. Mi sono andato a rompere il costino. Vai. Mi sono andato a rompere il costino. Vai. Ok. Vì, ci alla testa, l'ho facile. Alla testa, la… Adesso... ...diciamolo. Cosa strana. è bellissimo non c'è partita no, sei il numero 1 non c'è il numero 1 sei il numero 1 sei il numero 1 non ho visto una di mezzo praticamente la botella io sapevo io sapevo io lo caccio cosa dare se ne ma se che c'è te devo caro bravo il tributo posso caro questo ce la stai votando tu ma che cazzo dici ma che cazzo è 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 si è ma che cazzo è vabbè non ci diamo perché ci ha fatto ridere ci ha fatto dirlo no, è la convinta si può testare si, si ma è una prossima cosa simone è pescato perché stiamo facendo quei coglioni penso che si potesse fare cioè con l'effetto lo posso fare no, non lo posso fare con l'effetto lo posso fare no, no, perché lui ti ha tipo una norma d'azonti ah, finisci? eh sì, ma nel senso che puoi fare un'altra norma di trugging ma questo non dice che puoi tributare ma non ci sarà quella ventina quello è come i trugging normali che ti spacchi i nostri per evoca infatti io non capisco perché giochi con la gatta perché se ti distruggi l'Italia mi faccio, aggiungo Masterpiece ma se vorrà disponibile nel mio store mettila non uccidiamo agli agonitari un'altra volta mettiamo un dislike ragazzi, voglio mettere tutti i dislike vai ci metto un like e ti ti pull tanto c'è un altro davvero non ci rambo vieni il giro no, non ci rambo no no, fiumi OG Guig no, state zitto che vi mando via tutti quanti vanno qui vai se noi lo andiamo via tagliando che siamo quindi 700 700 700 700 Simone ti ricorda qualcosa basta 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Poi vi spiegheremo che cosa ha per scatola Posso Fatto Ok Anzi Pesco 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 No No Pesco 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 Non ci accorde Ooooo . .